Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura il ricordo del terremoto dell'Irpinia. Era il 23 novembre 1980. Sono passati 40 anni da quella tragedia. Abbiamo chiesto ai torresi il loro ricordo di quei giorni terribili. Spazio naturalmente anche all'emergenza sanitaria con l'aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano. Ampio spazio anche alla cronaca con l'operazione dei carabinieri che hanno arrestato due giovani per tentata estorsione. Maxi sequestro invece della guardia di finanza nel napoletano. In chiusura lo sport con la Turris che pareggia in trasferta con il Catania. È il terzo pareggio consecutivo. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Una tragedia umana enorme, segnata da quasi 3.000 morti, più di 8.000 feriti e 300.000 senza tetto. Sono passati 40 anni da quel terribile terremoto di magnitudo 6.9 che alle 19.34 e il 23 novembre 1980 colpì la Campania e la Basilicata, lasciandole profondamente martoriate. Oggi in quei territori la ricostruzione è quasi completata, ma la ricorrenza del quarantesimo anniversario restituisce ricordi drammatici. Non solo per i lutti e le rovine che quel terremoto provocò, ma anche per i gemiti che nei giorni successivi al terremoto continuavano a salire dalle macerie a causa di ritardi nei soccorsi, che l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, denunciò con voce alta e fermissima. Sono tornato ieri sera, dalle zone devastate, dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticarò. Interi paesi rase al suolo. La disperazione poi dei sopravvissuti. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe. Sono partito ieri sera. Ebbene a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Un'esasperante lentezza che ha accompagnato il processo di ricostruzione delle case mentre continuava a risuonare il lamento degli sfollati accampati via via con l'imperversare del freddo e della neve dapprima nelle tende e nei vagoni ferroviari poi nelle roulotte poi nei container fino a quando un prefabbricato sembra un'abitazione vera per quanto precaria. Infine, a dare il colpo di grazia le ruberie di tanti sciacalli scolpite in decine di inchieste giudiziarie che hanno lungato le mani sulle ingentissime risorse stanziate dallo Stato ridimensionando ai minimi termini il futuro di sviluppo industriale che era stato disegnato per quelle aree. Oggi sono 40 anni dal terremoto dell'Ottanta che cosa ricorda di quel fatidico giorno? Stavamo a tavola stavamo giocati con mio padre e mia suocera all'improvviso ci sentimo non giravolto io subito indivisci che era un terremoto presi i miei due bambini mia moglie era incinta scendiamo per il chiamato da quinto piano senza ascensore piano piano e fortunatamente riuscimmo a scendere giù ma ero preoccupato per mio padre e mia suocera che erano anziani fu una cosa così che non mi posso mai dimenticare mia suocera e mio padre mia suocera fu veloci arriva prima di noi scicchietta e coscia fu esagerato arriviamo giù e tutte le persone stavano tittubbanti appaurite di questa situazione questo è un ricordo la paura la paura che mi fece fu terribile io mi ricordo un po' fosse poi ieri che dopo un poco un paio di mesi mia moglie partò lì e fece una tre bella bambina e quella chiamava la figlia del terremoto erano verso le 19 stavo vedendo la partita per televisione e sentivo un boato tremendo mi pensavo che era l'autobus della Vesupiana e poi sentendo strillare me ne sono accorti che è stato il terremoto io stavo da casa di mia suoi ho fatto le scale dalla paura mentre mia moglie ha dimostrato di essere una donna madonna con la D maiuscola si è stata sopra vicina la mamma il papà diciamo la famiglia ma io l'ho fatto indistintivamente non è che sono un figliacco è stata una cosa istintiva e poi dopo siamo scesi nella piazza della chiesa del cano e adesso noi certamente ce ne siamo andati verso Sant'Antonio abbiamo dormito in un formato e ricordo queste ragioni purtroppo sono cose della natura si ricorda tutto e tutti quanti noi ricordiamo quelli attimi però mi ricordo che stavo facendo la partita un forte boato e io su peggio pensavo che erano qualche bomba perché si faceva molto il terrorismo in quegli anni era un periodo che si facevano gli attentati e poi abbiamo capito che era questo fatto qua ci siamo trovate alla sprovvista è un fuggifuggi oggi sono 40 anni da quel fatidico giorno il terremoto del 1980 che cosa ricorda? stavo lavorando nell'ospedale Annunziata e siamo andati al parco di divertimento che andavano tutti i bambini che stavano giù di là e siamo andati a prenderli e portarli un'altra volta in sede poi dopo sono andato a casa e ho trovato le mie famiglie in mezzo alla strada questo ricordo sono cose drammatiche si vengono ancora oggi che stanno parlando il problema è che il caso deve cambiare il mondo politico non fanno niente per me per nate e per nate i giovani lavorati stanno a mezza navi stanno ancora la gente ancora sotto quelle case là senza un aiuto soltanto le promesse l'hanno fatto tanti anni fa però questi governi che stavano prima avevano promesse a questa gente qua di là però non si è risolto niente purtroppo questa gente qua deve vivere ancora così era ragazzo era proprio la prima volta che avevo questo terremoto in corso e stavo in Cino Corallo proprio qua quando ci fu questa scossa e ci è stato un panico totale quindi diciamo la paura soprattutto per le persone anziane che non riuscivano a correre quindi per questi disagi che poi sono susseguiti successivamente comunque è stato un brutto ricordo che è stato poi dimostro nel testo che cosa ricorda di quel fatidico momento del 1980 il terzo figlio per scendere dalla casa dei miei soci le scala facevano si che zaga mi ricordo questo purtroppo una nottata nella villa comunale però siamo ritornati in casa e tutti tutta un'oscurità i palazzi che tremavano gente che in strada che piangeva io però quasi non l'ho avvertito il terremoto perché stavo per strada e poi comunque la prima cosa sono corso a casa per vedere come stavano i fatti riguardo la mia famiglia nel mio quartiere tutta la gente fuori dalle case che tremavano piangevano però sinceramente io la scossa diciamo per quanto mi riguarda a me non l'ho avvertito perché stavo per strada questo è comunque poi comunque mi ricordo una cosa proprio straziante proprio brutta brutta la gente che piangeva attestati 82 nuovi casi di positività al covid-19 a Torre del Greco durante il weekend sono 33 guariti il sindaco Giovanni Palum esprime il suo cordoglio per la scomparsa del dottor Palpalardo noto diabetologo dell'ASL vittima del virus esprimo a nome dell'intera collettività alla famiglia e dalla comunità medica napoletana in particolare quella di Torre del Greco unita a quello dell'amministrazione comunale tutta sale dunque il numero di contagiati complessivi sono 1035 soggetti in isolamento domiciliare 18 gli ospedalizzati il complessivo dei guariti dal virus sale a 552 sono 39 i decessi a Castellamare di Stabbia si abbassa leggermente la percentuale relativa al rapporto tra tamponi effettuati nuovi positivi ma sono ancora troppi i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 56 i cittadini risultati positivi al coronavirus di cui 22 manifestano i sintomi lievi mentre sono ben più gravi per un soggetto positivo di 71 anni tra i contagiati ci sono ancora giovanissimi ben 7 ragazzi tra 9 e i 16 anni il totale dei tamponi lavorati di 336 nella giornata di sabato sono stati registrati 21 nuovi casi a tour annunziata al contempo si registrano anche 38 guarigioni il dato tiene anche conto dell'inserimento della piattaforma di pazienti risultati positivi in seguito a tamponi effettuati presso laboratori accreditati dalla regione Campania 460 cittadini attualmente positivi 448 posti in isolamento domiciliare e 12 ricoverati sale 839 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a tour annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria di cui 367 guarite e 12 decedute a San Giorgio a Cremano si registrano 104 nuovi contagiati tra il 10 e il 20 novembre numeri che si sommano ai precedenti casi per un dato complessivo di 867 positivi nella città il sindaco Giorgio Zinno sottolinea però il miglioramento della curva dei contagi dati più rassicuranti rispetto a quelli emersi nella prima settimana di novembre che il primo cittadino attribuisce all'istituzione della zona rossa il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro presso due depositi di Giuliano in Campania e Casandrino quasi 13.800 capi di abbigliamento contraffatti e denunciato tra i responsabili per e-commerce di prodotti con marchi falsi di note griff di moda l'operazione ha preso le mosse dall'attività investigativa condotta dai finanzieri della compagnia di Giuliano in Campania che tramite il monitoraggio delle pagine dei principali social network hanno scoperto una rete di vendita online dei prodotti contraffatti attraverso pedinamenti e appostamenti le fiamme gialle hanno individuato due depositi adibiti ad outlet gestiti dai tre responsabili all'interno sono stati scoperti 13.795 capi di abbigliamento con brand contraffatti di noti marchi nei depositi è stata rinvenuta anche documentazione contabile attestante l'elevato numero di spedizioni degli articoli in tutta Italia in particolare i responsabili delle lecite attività esercitata esclusivamente attraverso canali internet proponevano a dignari clienti l'acquisto di merce di altissimo valore commerciale vendendola alla metà del costo indicato sui cartellini che accompagnavano il prodotto facendo credere agli acquirenti che si trattasse di articoli originali ricevuti a prezzo di realizzo questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre indagati appartenenti a due contrapposti sodalizi camorristici ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di estorsione porto e detenzione illegale di armi tutti aggravati alla circostanza del metodo mafioso le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolizza a carico di due persone che agendo per conto del clan del Luca Bossa Minichini e Rinaldi si sono rese responsabili di un tentativo di estorsione commesso il 12 gennaio 2018 ai danni del titolare di una piazza di spaccio attiva nel quartiere Mercato tali individui nel momento in cui si sono recati alla vittima per riscuotere la tangente sono stati affrontati all'indagato appartenente invece al contrapposto cartello mafioso di Mazzarella che ha esploso contro i loro numerosi colpi di arma da fuoco mettendoli in fuga gli eventi si inquadrano nell'ambito della violenta contrapposizione tra il suo delizio di Mazzarella e quello dei Minichini Rinaldi di Luca Bossa quest'ultimo interessato tuttora ad estendere la propria sfera di influenza dall'area di San Giovanni a Teduccio Ponticelli a quella del centro di Napoli si conclude in parità la partita di campionato tra il Catania e la Turris giocata in campo neutro allo stadio nobile di Lentini vista l'indisponibilità del Massimino uno 0-0 che permette Corallini di restare aggrappati al gruppo di testa e mantenere l'imbattibilità esterna in questa stagione mister Fabiano presenta una Turris priva del centroavanti Longo e nella prima frazione di gara subisce gli attacchi degli Etnei tra le cui fila spicca l'ex Serie A Reginaldo e non trova quasi mai modo di arrivare dalle parti dell'area siciliana i rossazzurri vanno più volte vicini al vantaggio soprattutto con Clayton che tira dalla distanza un pallone che viene deviato ma trova la strepitosa risposta di Abagnale la ripresa si apre con un bel tiro di Franco dal vertice dell'area ma il pallone sfiora solamente l'incrocio dei pali Corallini più aggressivi a metà ripresa vicino al gol con Romano che di testa però colpisce male da centroarea e manda il pallone sul fondo poco altro fino al triplice fischio che sancisce alla fine del match la Turris ora dovrà vedersela con un'altra siciliana nel recupero di mercoledì infatti sarà impegnata allo stadio Barbera di Palermo nel match non disputato qualche settimana fa per l'alto numero di tesserati tra i rosa nero colpiti dal coronavirus grazie a tutti per la cortese e attenzione vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro TG grazie a tutti